Per chi è in live invece, continuiamo da qui, abbiamo appena sconfitto il secondo boss, andiamo avanti. Bello eh? Neanche sembra che sia un altro episodio. Da qualche parte c'è ancora lo scudo del boss, che mi ha droppato ma non so dove. E facciamo che non ci interessa, va bene? Lasciamolo lì. Da qui noi dovremo proseguire. Ho avuto 25 punti esperienza, senza motivo, e ci sono delle persone. Sto cercando Caslo. Giusto, devo andare nei portali. È questo che mi sto dimenticando. Sia nella prima area che in questa ci sono i portali. Ogni volta che batti il boss, si apre il portale vicino al boss. Forse è quello che mi sono dimenticato di fare nella prima area, ed è dove c'è il coso che mi fa ripristinare più velocemente la magia. Aha! Bravi! Voi in chat che mi ricordate le cose. Siete delle brave persone. Sono contento che non ho letto neanche una linea di quello che mi ha detto sto tizio, ma so dove prendere quello che mi serve. Esatto, l'anello per la rigenerazione della magia. Quello lì. Loro se ne sono andati, e qui nei paraggi c'è il primo portale, c'è il secondo portale, quello di questo boss, ed è lì. Andiamo a dare un'occhiata, giusto per non dimenticarmelo come quello che ho appena dimenticato. Qui cosa c'è? Non mi ricordo per niente questa strada. Pietra insanguinata, un oggetto di missione. Questi sono i nemici con lo scudo, ma quello piccolo, non quello grande. Oddio, li ho one-shotato. E viva il nostro nuovo martello. All'incirca, all'incirca forte, sì. Che mi droppi. Una runa piccola. Quarta notte, messaggio audio. Non ci interessa, c'è un altro arciere che non posso colpire. Adesso abbiamo anche la terza magia, stupore. Dovremo provarla prima o poi. E rifugio di livello 2. Andiamo qui dentro. Non posso. C'era nota vocale. Ah, ok. Non è un drop random. Che cosa? Di che stiamo parlando? Torna indietro per lo scudo del boss. Ok, tornerò indietro, cercherò lo scudo del boss. Qui c'è un forziere. Immagino, sì, a seguire a luce. Andiamo. Ci sono anche dei nemici? Che di certo non vogliono farmi delle carezze sullo sterno. C'è anche qualcuno che spara cose brutte? Ahia, questo mi ha fatto molto male. Immagino che adesso si comincerà a vedere la differenza con l'armatura leggera. Prendere tutti questi danni non è granché. Voglio uscire per primo il tizio che mi sta bersagliando. Toh. 64 col guanto. Guarda quanta vita. Ma ha una barra della vita? No, ok. Mi ha stoppato l'incantesimo. Senti, facciamo che muori. Grazie. Tutto questo perché io dovevo andare lì qua. Wow, che salto che ha fatto. Attacco in salto è tipo lunghissimo. Sì, era tipo un triplo salto carpiato, non proprio. Ecco qui, kamar, bacchetta. Diamo un'occhiata. Ah, fa un punto di danno in meno rispetto al martello. Però non è un martello, quindi va benissimo. La differenza tra queste due dovrebbe essere che questo qui fa danno alimentare da fuoco, se non sbaglio. Sì, danno da fuoco. Questo qui fa solo danno fisico. E questo qui ha scaling. 3% di scaling da fede. Questo qui niente. Quindi direi di andare con questa. Che non è lenta in culo. Ha un po' più di range. Ed è bellina, da vedere. Non so se c'è altro in questa zona. Sì, forse seguiamo la luce. E lei ci porterà alla vittoria. Sperando che quelli grossi che ho visto lì in lontananza non siano nemici. Ehi, c'è qualcuno? C'è un bottone. Che ci devo fare? Quello è sicuramente un nemico. 38? Speravo meglio. Vediamo con... Non l'ho fatta. Volevo vedere la combo dello scudo. 122. Anche questo non è per niente male. C'è altra gente. Ecco il backstab. Anche questa fa elettricità per qualche motivo con il backstab. Diciamo che va bene. Sto bottone non so a che diavolo serve. Ma che fa spuntare i nemici? Boh. Forse ho finito in quest'area. C'era solamente la bacchetta da prendere. Facciamo che me ne vado, va bene? Questa cosa è rosso? Che cos'è? Niente. Ah, un oggetto. Runa. Sigillo. Piccola. Frammento di resistenza al fuoco. Ok. Io me ne vado. Grazie a tutti. È la realtà che io non riuscivo a vedere. Ok. Apprezzo questa interpretazione filosofica. Andiamo a vedere che c'è nell'altro portale. Quello del primo boss. Ciao, A3. Buonanotte. Grazie per la compagnia. E io bevo intanto. Ok, giusto in tempo. Penso che il portale abbia fatto respawnare tutti quanti i nemici dell'area. E adesso con calma mettiamoci qui e cerchiamo questo benedettissimo scudo che mi serve assolutamente a tantissimo, tant'è vero che non lo userò mai. Eccolo. Adesso è proprio qui al centro dell'arena. Se c'era anche prima, sono cieco. Punta di freccia. Pugno. È una runa grande. Quella è la cosa più importante. Le rune grandi sono utili. Ok, così si cambia il modo di utilizzare il coso. Così si cambia tra le mie armi preferite. Addirittura tre ne posso avere, fantastico. Però, aspetta un secondo. Toglici questo. Non mi serve più. Disequipaggialo. Metti kamar. Chierico. E nient'altro. Quelle due sono le armi preferite che devo avere. Il martello per fare danno con un colpo singolo e il kamar per quell'altra roba. Giusto? Sì, così cambio arma. Velocissimo. Con su non faccio niente. Con sinistra cambio il tipo di incantesimo che faccio col guanto. Bene, sono contento. 1100 punti esperienza. Non posso farci niente. Si va. Torniamo ad arrimare. Magari di corsa, eh. Non saltando, però. Grazie per la freccia nel culo. L'apprezzo molto. Ha! Mecca mi sto scudo. Non fa tantissimo male. Però lo posso spammare. Relativamente. Di loro me ne frego. È bellissimo correre con lo scudo alzato e fare volare la gente. Toff. Vai via. Devo cercare di non saltare così tanto a caso, però. Sì, in effetti era meglio della freccia nel ginocchio. Ehi, quest'arma che mi sta facendo vedere nel caricamento è una delle armi fede che possiamo utilizzare. E la otterremo in questo episodio. Contro il terzo boss. Non hai rotto le panchine nella chiesa iniziale correndo. Devo rompere le panchine anche? Non volevo perdere così tanto tempo a rompere sovrammobili e cose varie. So che ci possono essere degli oggettini dentro, tipo frammenti, però non... Non penso che mi siano molto utili alla fine. Questo ti ha fatto male. Mi spiace. Ehi, ciao. Me ne sono molto importato di te. Non hai fatto la intro del secondo episodio, non è vero? Non devo riparla sempre uguale. A me piace fare le intro strane. E boom. Ah, adesso lo shotto. Che bello. Li uccido giusto perché mi aumentano il moltiplicatore. Poi andando avanti verso i nemici che dovrò davvero uccidere. Sarà importante questa cosa. Visto che adesso li one shotto non è un problema. Ammazzarli. Un bel colpo al nulla. Stranamente quest'arma penso che sia più utile con una mano, che non ha due. E qui c'è il nostro coso. Però prima uccido lui. Perché ho voglia. Ecco qua. Visto che dopo che sarò uscito dal portale, tutti quanti saranno di nuovo vivi. Meglio ucciderlo anche prima. Non so quanto costi Lords of the Fallen in questo momento. Io non penso che lui si dovrebbe pagare più di 30 euro. Volendo esagerare. Completo con il DLC. Ma che ne so io alla fine. Discepolo fedele. E questo dovrebbe essere quello che ci serviva. Più una bottiglia vuota. Che significa una pozione in più. Poi scudo bastione e il frammento per il fantasma. Va bene. E cos'altro? Frammento di energia, runa piccola e frammento magico. Cosa importanti? Equipaggiamo il discepolo fedele. Che ci aumenta il recupero degli MP. La cosa più importante. Via di qui. Via di qui. Grazie. Eh sì. Non so quanto useremo questa bacchetta. Che è simile al Twin Blade come dice Simone. Però... Sì. Se uno vuole fare il guerriero con questo sentiero magico. Usa esattamente le stesse magie. Solo che saranno meno efficaci se tu hai meno fede. Cioè con qualsiasi classe puoi usare qualsiasi tipo di magia. Però qualsiasi magia dà il meglio con una build fede. Anche il guanto. Il guanto lo possono usare... Anzi lo devono usare tutti. Per forza. Non penso che si possa andare avanti nel gioco. No. Non si può. Perché alcune cose si possono solo aprire col guanto. Però per me farà più danno. Ora possiamo andare avanti con la porta. Non adesso. Bel colpo. Bravo me. Facciamo che mi curo. Così. Non c'era scritto in nessuna parte che questa abilità mi avrebbe curato in maniera passiva. Però mi sta benissimo. Mi cura anche tanto. Probabilmente sarà la prima. Che potenzierò al massimo. Senza usare una fiaschetta sono tornato full HP. Davvero ottimo. A3. Mi aiutate a capire questa cosa del guanto. Sono rimasto indietro. Non vi sto leggendo. Quindi mi sono perso l'origine di questo meme del guanto. Voglio essere partecipe anch'io. Anche perché non essendoci dalla chat sullo schermo in questo momento. Quando rivedrò l'episodio non potrò leggere la chat. Andrà persa per sempre. Quindi voglio sapere. Tu ci muori. Non so che cos'è successo. Gli ho camminato sopra la testa. Vieni qui. È bellissimo spammare col guanto. Proprio quella soddisfazione di combattimento che ci piace tanto in questi giochi. Premere un tasto finché il nemico non muore a distanza siderale. È fantastico. Mi fa sentire bravissimo. Il prete era del gatto. Non mi spiega molto la cosa del guanto però lo accetto. Non c'è nulla da sapere tranne che Atra è drogato. Accettabile come cosa. Ecco se avessi scelto la magia del... Quella offensiva, quella rossa. Qui potrebbe essere bello usare un bel terremoto. Ucciderli tutti quanti con un colpo. Una runa piccola. Ma questo lo one shotto correndo? Wow. Epico. E di colpo il cuore si fermò. Sono riuscito a schivare l'arciere credo. Andiamo avanti. Qui c'è ancora la nostra tizia antipaticissima. E possiamo tornare Al nostro progresso. Da questa parte? No. Da questa parte. Sì, sì, era quella la citazione ovviamente. Uno dei momenti più alti di YouTube Italia proprio. Non è vero ma mi sa simpatico, non ci posso fare niente. Io vorrei raccogliere questo oggetto. Quando vuoi personaggio, eh? Grazie. Beh, l'ultimo colpo glielo diamo a mano, va bene? Con lo scudo. L'ho ucciso con lo scudo. Ho fatto otto di danno. E era abbastanza. Che sta facendo? Sto giocando. Sto andando avanti. Sto cercando di non morire. E per ora ci sto anche riuscendo. Che facciamo che mi curo? Così si è antipatico con le balestre. Cioè posso usarla di nuovo prima che io abbia ancora finito di usare la prima volta? No. Ok, non proprio. Questa sezione è antipatica perché ci sono dei nemici antipatici. Quelli. Quello che prima Nito stava dicendo che con lo scudo grande è inammazzabile. Vediamo spammando proiettili quanto sia ammazzabile. Tra l'altro quell'attacco che ha appena fatto è molto molto parriabile. Vediamo con la scudata. Beh sì, dai. Il danno glielo faccio. mica no. Più il guanto. Sono tosti, vero? Certo non inammazzabili. Mi ha droppato anche un bel po' di esperienza. Ma nessun oggetto. Immaginatevelo con un'arma forza che aveva molto più danno. sarebbe ancora più facile rispetto a quello che ho appena fatto. Da queste parti prima o poi c'è qualcosa di buono. C'è un altro segreto. non mi ricordo che cosa c'è dentro però c'è un muro da rompere. Il mistero di YouTube. Ah mio Dio quanta vita mi ha tolto. ho detto che non dovrei venire da questo lato. I nemici sono molto forti. Mi raccomando non sbagliare buco. Farò del mio meglio. Non so di cosa stiamo parlando però nel dubbio io non lo sbaglio il buco. Tranquilli. Carino questo colpo. Diciamo che muori. lì c'è un altro forziere da aprire con le rune. Ah mi ha visto. Ok questa armatura leggera comincia a non essere proprio la cosa ideale. Sto prendendo tantissimo danno. E dai muori. Che cosa? Perché ancora vivo? Perché sono a terra? Che cosa sta succedendo? Tu? Ma dove esci? Mio Dio la gente mi vuole morto. Perché? Che cosa vi ho fatto di male? Gino meglio usare il guanto. Eh vabbè ma non gli faccio niente col guanto. Meglio usare questa magia a oltranza. Questo l'ho ucciso? No non è vero è una mia dotta esperienza. Torna su. chi credi di prendere per il culo. Ecco qua. Qui devo fare attenzione eh. Questo mi sembra uno di quelli potenti. vediamo se riesco a bextebarlo. E poi ci sono due di quelli grossi. E non voglio attivarli assieme. moltiplicatore 1 e 53 di esperienza. Per niente male se riesco ad arrivare dal boss con un moltiplicatore di 2 siamo a cavallo. ovvio. Ovvio poi io non devo morire quando ho il moltiplicatore di 2 altrimenti mi ha lo risetta. Ehi? Ehi? Si è incastrato? Ehi? Cretino Forza Vieni avanti Cretino Aiuto Sono riuscito a non farmi colpire Gli spammo tutto il guanto che ho Lo senti? Il mio guanto possente? Bravo Per sicurezza un altro colpo? Perfetto 1001 punti esperienza E mentre aspetto che mi si ricarica il guanto vi leggo con amore e apro questo forziere Annanna Abbiamo appena cominciato Eh, fra l'altro le vacanze vanno sfruttate, giusto? Guardiano Ascia Grande e un'altra bottiglia vuota Penso che adesso potrei avere tipo 6 o 7 pozioni Quando torno a un falò me le faccio ripristinare Almeno un episodio di citazione a Yotobi E in questo siamo già a due Nel primo non ce n'erano quindi sto bilanciando così Allora Dai, non facciamo solo con guanto Due colpi due e gli ridiamo anche col col bastone Aia Wow Questo mi ha fatto male Non devo essere qui Non devo essere qui La vita è un'illusione Facciamo che perdo l'aggro E uso questa magia per curarmi No? Vuoi essere guantato? Io ti agguanto tutto Mi sto cacando sotto Ok Uh Perfetto Mentre la magia mi si dicarica possiamo andare avanti Non ci sono altri nemici in quest'area Mi ha fatto davvero malissimo Devo o aumentarmi d'armatura e mettere qualcosa di più pesante Oppure Aumentarmi da vita Tutto qui Da qui penso che non ci posso andare in questo momento Però questo dovrebbe essere il muro che si rompe Mi scusi Questo dovrebbe essere il muro che si rompe E qui dentro c'è un forsiere Prendi Cieco Il martello cieco Chissà come ha fatto a diventare cieco Io ho un'idea Ce l'ho Ma non la posso dire Vediamo un po' Il nostro martello cieco Non è molto forte L'altra cosa che ho ottenuto Niente Volevo solamente controllare che avessi equipaggiato quello per il ripristino della Della mana Sono un money grabber Non sono più quello di una volta Che cosa ho fatto Aiuto È vero Mi avete scoperto Ma cosa ho fatto Come mi avete scoperto Questa è la vera domanda È cieco perché ho usato il guanto Questa è la risposta migliore che potessi ricevere Credo che sia andata esattamente così Un oggetto che non ho raccolto Graffio Pugno Un'arma da pugno che non posso usare Però ce l'abbiamo Ah Pensavi che mi fossi scordato di te Ce l'avevi quasi preso Mi sono ricordato dello spavento che mi ha fatto prendere quando ho raccolto quella nota e mi è saltato addosso la prima volta C'è un altro di quelli con lo scudo piccolo Che voi ci crediate o meno Quello è uno scudo piccolo A quanto pare sì Quello è il significato di guanto stasera Questo cos'è invece? Ah è di spalle Vabbè Scudata è R2 in corsa È tutto quello di cui ho bisogno nella vita C'è un altro nemico Ah addirittura Esperienza Ecco qui non l'avevo vista Qui si può entrare però non so che cosa ci dovrei fare C'è nessuno Lì È un arciere Ehi sono riuscito a non farmi colpire da un arciere tipo magica questa cosa C'è un altro Addirittura un backstab Sono fortissimo Qui Ho avuto mille punti esperienza perché ho acceso questo coso Non so felice di vedermi Ok grazie sei morto Ora sono felice anch'io Facciamo che mi curo Così E uccidiamo quest'altro rogar Bam Anzi sbada bam Qui c'è un coso per il fabbro Forziere qui sotto niente Mi ricordo che questa è la strada segreta tra virgolette per il boss Ok qui c'è un forziere E prenderemo questa strada per andare dal boss brocchiere bottiglia vuote scudo pesante Questa porta dove è porta? Da un balestriere Ah quello di prima Ok Ci siamo ricollegati con qua sopra Va tutto bene Moltiplicatore di 1.60 per questo boss Non è per niente male Poi ci sono anche dei nemici interni alla boss fight Oddio potrei anche morire Frammento di resistenza magia bottiglia vuota Ne abbiamo un sacco di bottiglie vuote In questo momento sono letteralmente vuote visto che non torno a riempirle da un sacco di tempo E qui siamo nella boss fight Che un po' mi spaventa Questo boss mi spaventa perché la sua arma quella che mi droppa mi serve è un'arma fede Per avere la versione speciale devo fare in modo che lui uccida da solo almeno due dei suoi minion Ho ottenuto un teschio umano Ecco qui il boss L'adoratore E questo è l'attacco delle falci Le nasce nel pavimento 1, 2 e 3 E poi così può attaccare Gli ho fatto malissimo Questo è l'attacco stordente A cui non dovevo fare robe Proprio no non dovevo fargliele per nulla E di nuovo questo Qui si posso attaccarlo 1, 2 E sbadabam Gli ho sceso la prima attacca di vita Dopodichè lui fa questa cosa qui Si mette qua E fa un attacco ad area che distrugge tutto One shot se siete fuori da uno di questi cosi Quindi io mi metto qui dentro e mi curo con la magia Vedete questa nebbia blu? Appena lui attacca per terra esplode tutto Se non sono in un santuario mi viene mi one shot semplice efficace E adesso ha creato quel coso lì da cui uscirà un nemico Se riesco a fargli uscire due nemici ottengo la versione speciale dell'arma Non so come fargli uccidere Sono fastidiosissimi questi nemici Non prendono neanche tanto danno da lui Forse sono morti Ok Aiuto No Non è morto Vediamo se va l'incantesimo Ti prego curami Oh no Mi ha fatto uscire da qui No No Nemico di merda Lo sapevo che doveva fare sta cosa Questi qui sono davvero antifaticissimi perché sordiscono un botto ti buttano per terra e attaccano a raffica Sono molto più pericolosi del boss Covetous dice Gli diamo un premio se muore Ora voglio sapere qual è il premio Li può uccidere pure in melee Lo so che mi doveva Cioè Non lo so Se li doveva uccidere in melee o con l'incantesimo va anche Posso andare avanti Ehi gioco Sono morto Mi sa che si è bloccato È diventato scemo Non ci crede che sono morto Ehi Non sto capendo Aiuto È colpa del guanto Ma se premo start Che cosa vuoi che faccia È alto f4 Ma ho paura Che se esco dalla partita Qui Mi bugga tutto Va bene Non posso fare altro Muoio una volta E il gioco muore Che bello C'è il salvataggio Benissimo Un'ora e dodici Non ho idea Di quando mi abbia salvato La partita Adesso chissà che cosa Dovremmo rifare Sarebbe bello Se mi facessero Se mi facessero Spawnare Come se fossi Appena morto Ma non credo Che succederà Molto probabilmente Dovrò rifare Tipo 12 minuti Di quello che avevo fatto Dove sono? Tutto quello che ho fatto Nel secondo episodio Non sono mai stato Vediamo Ho tre incantesimi Non so a che livello sono Ho tre pozioni Come faccio a sapere Vediamo Bacchetta del monaco Provocazione Ascia grande Marauder Non c'è Il martello Che avevo preso Nel muro Quindi non ho mai fatto Quella sezione Oh santo Piripillo Non ho neanche Il coso dei portali Ma porca Troia Sto gioco Aaaaa Aaaaa Che bello Tutto quello che ho fatto Nel secondo episodio Non esiste Ho fatto Una cosa E il gioco Si è buggato Una Grazie per la freccia Nel culo Perché hai saltato? Adesso mi faccio Uccidere Perché Perché sono Nè Capisci? Maledizione E io che volevo dirlo Sapete Questo gioco È stato Buggatissimo Tipo Il framerate Andava di merda Succedevano le cose Più impensabili Nemici volanti Bug di salvataggio Ma adesso Sicuramente È molto meglio Muoio Una volta E mi fa recuperare 20 minuti Di gioco Passiamo a Skyrim Lì non ci sono Bug Come no? Ora pubblico Due secondi episodi Può darsi Allora Rifugio Ok Recuperiamo Questi Questo quarto D'ora di gioco Appisellate Ignoranti Come mi suggeriscono Dalla chat Che comprende Anche questo Backstab Il nemico Giuro Non poteva Succedere Cosa più Antipatica Già morire Dal boss In quella maniera Era abbastanza brutto Dover recuperare L'esperienza E il moltiplicatore Era abbastanza brutto Ma non volevo rifarlo Rifacendo tutto Quanto da capo Tra l'altro Non mi ha neanche salvato Il fatto che ero Passato vicino All'altro salvataggio Cosa che avrebbe Dovuto fare Proprio dall'inizio Mi ha fatto recuperare Va bene Quanto amore Nel mondo Tutto Concentrato Su di me Che bello Ehi Pisellate Una bella parola Ci credo che hai riso È una di quelle parole Che fa sempre ridere Torniamo qui dentro Su Chissà che cosa Ci troveremo mai Sì certo Pisellate ignoranti È il termine tecnico Vai dal ragno In quest'area Eh potrei anche farlo Non so cosa c'è In quella In quella zona lì Sai Ok Discepolo fedele È la cosa importante Il gioco si è offeso Perché sono morto Mi sta dando La possibilità Di recuperare Dal mio errore E non farlo più Avrei preferito Non avere Questa possibilità Grazie Ma tecnicamente Siamo ancora In una run Senza morti Visto che la morte Non è mai accaduta Come è Lords of the Fallen È procedurale Mezzi professionali Certo No Non mi farete dire PENI Altrimenti sarebbe Un'altra citazione A Yotobi Mi ho già fatte Ehi ma questo Non è il vero Secondo episodio Quindi posso Dirlo PENI PENI Ah 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 Proprio i meme Del 2000 Mai Stiamo tornando Indietro Stiamo regredendo Eh ci sta Ti pare che io Posso fare l'intelligente Dopo quello che Appena è successo Devo regredire A dodicenne In realtà Dovrei anche Insultare la mamma Dei programmatori Del gioco Per essere Coerente con me stesso Cercherò di Non farlo Ma non vi prometto Niente Gino Sei come Molise Adesso Con calma Ti siedi Perché Sono sicuro Che sei in piedi E me la spieghi Che centro io Col Molise Ops Per fortuna Stavo parando Non stavo neanche Guardando Il gioco Stavo leggendo La chat Qui c'è quello Grosso Da qualche parte Eccolo Diamo un'occhiata A questo posto Col ragno Giusto per Vedere Davvero Ho insultato La mamma Dei programmatori Per Dark Souls Non mi ricordo Forse la mamma Di Terimura Ma giusto un po' Poco 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 Ok Il ragno Salve 64 Mi ha fatto Molto male Devo dire Mi ha fatto Molto male Ai sentimenti Ah ma soffre Parecchio il fuoco Credo sia il fuoco Vediamo se c'è Qualcosa di buono In quest'area Porta chiusa Ho Locato Qualcuno Eccolo lì Ok L'ho Shot Questo Questo no Questo è fortissimo Wow Giustamente Ci vado cauto Con nemico debole Poi contro quello forte Che non si può riconoscere In nessuna maniera E gli vado Come mi avete detto voi A pisellate in faccia E la pisellata la prendo io E non è stato bello Quindi ricordatemi Memo per il 2017 Evitare le pisellate sulla faccia Ecco qui Mi ha dato dieci volte L'esperienza Che mi aveva dato Quell'altro E io ho fatto bene A Usare il lock Credo mi sia per sparare Qualcosa di indicibile Addosso No Solo ho evocato Un altro ragnetto Veloce con la magia Ho equipaggiato il Coso No Equipaggiamo il coso Mi serve a cosare le cose In maniera più rapida Vediamo se l'attacco Wow L'ho parato anche quello Attacca veloce Questo ragnetto è morto Sembrerebbe di sì C'è qualcosa in giro Forse no Veloce magia Mi voglio curare Ma non voglio usare pozioni Diamo un'occhiata Intanto Qui c'è una leva Giusto per non stare fermi A non fare nulla Se muoio È colpa di Atreus Che mi ha detto Vai dall'altro ragno Quello che stava in quest'area Così Senza motivo E io che sono bravo Lo ascolto Ah Ho aperto la porta Di questa zona qui È un piccolo shortcut Niente di più Ecco Questa magia è un po' Invasiva Per quello che riguarda L'estetica Però mi cura Quindi va bene Te la concedo Paura C'è nessuno Perché la telecamera Fa questa cosa strana A cosa sto puntando Non si sa Qui è dove c'era il ragno Qui c'è un altro ragno Quindi stavo puntando A un ragno che avevo Sopra la testa Ma non me lo faceva vedere Sono molto contento Sono molto soddisfatto E ho una paura Maledetta Forse con un altro Tacco in salto Lo uccido Ti prego Non proprio Ok Per fortuna Questa arma Gli fa molto male Qui che c'è Ah ok Questa è una cosa Interessante Questi qui sono bottoni Se ci lascio sopra Il mio Amico Quello della preghiera Mi dà più tempo Per vedere La cosa che Questo bottone Mi apre Che però Non so cos'è Da qualche parte C'è una porta chiusa Che mi si apre Col bottone Devo prima trovarla Per sapere dove andare E poi Sfruttare Questa cosa qui Questa porta È già aperta Non so che sto facendo Non so dove sto andando Ma sono sicuro Che se me l'ha detto Atreus È utile Un altro Mi sto cacando sotto Premuto tutti i tasti Tranne quello che mi serviva No 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 Vai via Io e te Non ci vogliamo bene Te lo assicuro Posso colpirlo da qui Sì Benissimo È il momento Di cisare tantissimo Ho paura Di quello che sto facendo Ma farò lo stesso Quanta epicità Signori Quanta epicità Questa potrebbe essere La porta Che è chiusa Forse è questa qui Quindi troviamo il modo Più rapido possibile Di arrivare da lì A qui Qui c'è un salvataggio Che non toccheremo Perché mi odio Chiave Forziere Sala Non so di Che forziere Stiamo parlando Qui non mi fa andare C'è un altro ragno Di dentro Vero Facciamo che lo tocco Il salvataggio Perché mi sto cacando sotto Tutto qui 4000 punti esperienza Gino Ma non ti ho mai detto nulla Non è vero Atre Ho deciso Che è colpa tua E oramai Il tuo destino È segnato Non me lo fa mettere Questo qui Io potenzio ancora Questa E adesso Ho punizione Disponibile Al prossimo punto Magia Che ottengo Perché Atre Vuoi convincermi Che non è colpa tua Quando sappiamo Benissimo Tutti Che è colpa tua Qui c'è il bottone Quindi dritto E poi a destra A sinistra Perché vengo Dall'altro lato Boom Ecco qui Ecco il ragno E io mi caco Adesso Tantissimo Ho fatto bene A salvare Ho fatto molto bene Perché è esattamente Quello che non volevo Che succeda Mi ha avvenenato Ho salvato Perché sapevo Che in una stanza piccola Contro il ragno Ero morto No Simone Hai visto che sono stato bravo Che ho toccato il salvataggio Sapevo che andava a finire così Mi ero scordato però Che adesso Tutti quanti i danni dell'aria Sono di nuovo vivi Questo è un problema Non mi toccare Mi fa malissimo Maledizione Ho anche perso Tutto il modificatore Dell'esperienza Penso che in quest'area Alla fine Non ci sia assolutamente Niente di importante Mi fa davvero Troppo male Facciamo che mi curo Grazie No 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 Che stai facendo Fai via Nessuno ti ha invitato Questo è il mio salvataggio E il mio posto E sono incastrato Nella porta Ciao bello Ci vediamo quest'estate Le maldive magari No A voi ragni Non piacciono le maldive Me lo segno Ci riproviamo Senza motivo Non dovrei farlo Ma lo farò lo stesso Tanto cos'ho da perdere No Non so neanche Se l'ho messo Sul bottone Quanta cattiveria Proviamo con tanta cattiveria Non è servita a nulla Elimina la cattiveria Non serve contro i ragni Un po' si Allora Perché sono morto? Per per cosa? Che c'è in questa stanza? Che valeva la pena Di schiattare? Solo questo? Ago? Un'arma da pugno? Io ho fatto tutto questo Per un ago? E non è neanche l'ago Di Arya Stark? Sono molto deluso? Dove sono le mie anime? Sono morto In questa stanza qui? Scusate un secondo Se io provo a utilizzare Un consumabile Di quelli che mi dovrebbero recuperare il fantasma L'ho usato? Ho usato due volte Quindi posso usarlo anche se le mie anime non sono in giro Ho sprecato due cose Evviva Tutta questa deviazione è inutile Però In compenso Abbiamo fatto felice a Treyus Ninja E cosa c'è di meglio? Di un'altra è felice E noi con meno oggetti E con meno tempo Era tutto quello che volevamo Andiamo avanti Andiamo via Torniamo a fare le cose davvero utili Rifare le cose davvero utili Atre lo sappiamo tutti che c'entri tu Basta Basta Ho quattro pozioni Sì perché tutte quante quelle che avevo trovato Le ho perse Quindi devo recuperare tutte quante le bottiglie vuote Che rottura di scatole Morite entrambi? Bravi Vorrei uccidere anche te Bello il personaggio che salta Nei momenti più belli Morirai anche tu Ok Tutto questo per un po' di moltiplicatore Perché io sono ancora dell'idea Di alzarlo il più possibile E poi Eliminare il boss È una bella idea Devo solo farla funzionare Alla fine non è così difficile Basta che il gioco non mi farà Tornare indietro di 20 minuti Potresti colpirlo Gino usa la forza Ci sto provando No dai se muoio non è colpa di Atre È colpa di Atre solo quando è colpa di Atre No? Sembra logico Torre di guardia Lì c'è un tizio Qui c'è un tizio Ci sono tizi dappertutto Tranne qui dove dovrebbe stare Perché? È andato alle Bahamas Con il ragno che non ci voleva andare Vabbè se mi dovevo fare Oddio hai ragione Se mi avessi dovuto rifare Mi avete sentito Ah se mi dovevo fare anche il secondo boss Mi tagliavo le vene direttamente E cancellavo la serie Mi sta passando la voglia Di rifarmi la sezione qui sopra Con i nemici fortissimi Quello che mi ha quasi one shottato In pratica Ho recuperato lo scudo del boss Domanda O me l'ha fatto perdere? No ce l'ho perfetto Se no vuol dire che avevo perso Anche una runa grande E quello era un gran problema Questi di one shotto Con il guanto? No Peccato Toggano troppo Con se frecce stupide Ho cercato di parare Con il guanto È stato utile Atri è andato a prendere le lasagne A quest'ora Che dire Lo invidio È l'unica cosa che posso fare Hai rivisto salutando Boletari Hai fatto bene Che faccio? Mi fermo per forza qui Se no va a finire Che di nuovo mi fa perdere tutto No ho sbagliato Che cosa ho fatto? Vita? Stamina? Fede? Arriviamo a 25 di fede Poi mi posso fermare per un po' Ho pianto dal tene Cercherò di non immaginarmi questa cosa Facciamo finta che io l'abbia fatto E saremo tutti felici Tranne me Scudo Boom Tieni Tieni È per niente male Forse dovrei semplicemente Stunlockarlo così col Sì È anche meglio che il guanto Mi dà pochissima punta esperienza Perché è giusto un poco Giusto una punta Rispetto a prima che mi ha dato 900 punti È decisamente di meno La differenza che fa il moltiplicatore è alto Di questo ho una gran paura Volendo in una combo mi può anche uccidere Devo solo farlo attaccare e sarà meno lontano tutto qui Tipo così Bravo No Pianto sangue dal pene No per favore Non cercate di farmi così tanto del male psicologico Ho bisogno anche di dormire Ogni tanto Stavo per dire di notte Poi ho realizzato Ma chi voglio prendere in giro Dormire di notte Che è sta cosa Mi ero scordato che questo qui Non gliene frega niente Vabbè Devo solamente schivare le frecce Ah ma guarda La mira da Dark Souls 2 Colpisce dove sto andando Non dove sono Quindi ecco Se cambio direzione Non mi prende Ma se continuo sempre nella stessa Sì Se sto fermo Wow Devo stare attento Ah mi nascondo Questa è la cosa migliore Maglio pronto Tieni Mi ha preso lo stesso Mi ha tolto quasi mezza vite Contando anche il fuoco Grazie Mi ha tolto mezza vite Anche a me piace molto la sfida Di Nerabisso come serie Mi è venuta bene Modestamente parlando Riesco a fargli un backstab Pericoloso provarci Questo è uno di quelli forti credo Sì perché è nero E invece no Era debole Scusate Ah muoio Muoio fisicamente Mi è andato qualcosa in gola Tipo un moscerito Purtroppo non un moscerì Ehi Giochiamo Attaccami per favore Così poi bevo qualcosa Alla tua salute Che non ci sarà più Si spera No? Ah io volevo un backstab Penso di aver appena schivato una presa Dannazione Ok Ritirata Magia quando vuoi Mi disiscrivo Sei cambiato No Non lo farlo Simone Posso essere ancora quello che tu ricordi Fermati Bravo Non è vero Aia Questo qui non vuole morire neanche per sbaglio Come dargli torto Ti fermi Ti calmi Bravo Dammi qui Non mi ricordo che c'era qui Ah c'era una bottiglia vuota Quindi si Apriamola Tra l'altro Sono passate due ore Quindi vuol dire che il secondo episodio Tecnicamente è finito E io non ho fatto niente Sono praticamente allo stesso punto Da cui avevamo cominciato Visto che me l'ha ucciso il secondo episodio Sta cosa stupida Oh oh Ho sbagliato Gli uagrati entrambi Ora non è morto anche Solamente il secondo episodio Sono morto anch'io Se uno se ne va Sono contento Non credo proprio che lo farà Quindi dovrò correre In Cina Per fargli perdere l'aggro Almeno a quello che sta lontano Magari Uno alla volta Tranquillo Due mi uccidono Un'altra volta Wow Mi ha tolto tantissimo Perfetto Troppa Nulla 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 di nulla Oh oh Non dovevo venire di qua Dovevo farmi i cazzi miei Nope 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 Tu non mi colpirai Pensi di poterci riuscire Ma non puoi Se ci riesce sono morto Grazie al cielo Incantesimo pronto Giusto in tempo Gino hai finito un Dark Souls No mai Mi stanco sempre prima Non sono bravo con questi giochi Tu ci muori Grazie Io gioco solamente a Hello Kitty Qualsiasi cosa di Hello Kitty Esiste un qualcosa Sicuramente esiste un qualcosa di Hello Kitty Ce li ho tutti Quindi È ovvio che esiste Cosa sto dicendo Boom Oddio questi qui posso anche aggrarli assieme Non è che sono un gran problema Te Basta sto scudo Se no te lo faccio abbassare io Siamo tornati dai pressi del secondo boss Solo che prima avevo un moltiplicatore di 1 per 60 Adesso 1 per 18 Maledizione Il muro segreto Hai ragione Mi sono fatto tutto sto bucio di culo E non ho aperto il muro Vabbè che alla fine non c'è niente lì dentro eh Posso anche non farlo C'era un martello che non avrei mai usato Quindi prima non me lo ricordavo Adesso lo so Posso anche non farlo Non è che ci ho guadagnato niente Dal muro Uno Sono riuscito a non farmi colpire neanche dal secondo Magico Mi ha droppato qualcosa E penso che il nemico sia comparso quando ho usato questo Ma non so da dove Mi è arrivato alle spalle Eccolo Sì effettivamente spunta da qualche parte Quando attivi l'oggetto qui Allora Hai un livello gratis da utilizzare I frammenti caratteristica servono a qualcosa Non me ne ero accorto Vediamo un po' Grazie per avermelo ricordato Qui ci sono i consumabili Frammento del fantasma Frammento di resistenza alla magia Pronto caratteristica Boom Fatto Non ho un punto magico Un punto caratteristica è buono Grazie mille Eccolo qui Mettiamolo in vita C'è un rogar grosso Gli darò una spallata E morirà Altro No Ho sentito il controller che vibrava senza motivo Bel pokemon vibrava Ma non tanto quanto Flygon Allora Mi si è imbambolato il cervello Assolutamente sì Mi devo riprendere ancora da questa faccenda del gioco che frisa Tra l'altro Ho il terrore che possa farlo di nuovo allo stesso punto Bottiglia vuota Stavolta non entro da quel lato Stavolta mi faccio il percorso lungo E vado dall'altra parte verso il boss Perché così ci sono più nemici Dovrò tornare qui sopra per prendere la bottiglia vuota Quello mi serve Un bel salto Harkin Soprattutto utile Come disse il turbino mi rifiuto Ok L'ho letta davvero Vabbè che è a livello delle cose che sto dicendo io stasera Quindi non mi devo mica lamentare Da qui posso puntare i nemici? No Lì sotto ci sono due di quegli antipatici Che mi hanno ucciso prima dal boss Ok posso anche non attivarli assieme E l'ho sciotto Fantastico Appena posso puntarlo Ok non lo sparo Se lui mi rincorre Io gli do una scudata Facile Poi sbaglio l'attacco E sono quasi morto Mi piacciono un sacco Sti cosini piccolini e letali Proprio tanto Muori Wow La scudata non l'ha preso per qualche motivo Che io non comprendo Senti tu muori adesso Basta Eh? Basta Gino ricordati che rimarrà salvato sul tubo Perché ho detto qualcosa di compromettente A parte Prendere i nemici a pisellate e cose varie di questo tipo No Stiamo andando alla grande Niente Penso che vada tutto bene così Il secondo episodio sarà evidentemente molto più lungo degli altri Per motivi che non sono stati decisi da me Frammento di unione col fantasma Spada d'acciaio E pugnale d'acciaio Lì c'è la porta per il boss Qui c'è un salvataggio Che dovrei toccare Forse per questo boss Non è una cattiva idea farlo In realtà È solamente perché non voglio Oddio in realtà non mi cambia niente Ho toccato quello di sopra Non ci metto niente a tornare da là Sono il tuo idolo Mi dispiace Te li ho scelto molto male Come vanno le ferite? Dai dimmi Non c'è un grande assorbimento di armi e armature Più armature che armi Ma alla fine anche le armature sono Alcune Il remix Una delle altre Cambia il colore Cos'è così Non c'è neanche questa grande varietà di stili Sono diverse tra di loro Ma sono tutte quante abbastanza massicce Quanto alle armi invece Sono tutte quante con lo stesso moveset Nella stessa classe Quindi non cambia parecchio Il gioco funziona semplicemente a potenziamenti Cioè trovi un'arma più forte di un'altra Fine Quella vecchia la butti Tra l'altro a quest'ora Sarei già dovuto arrivare dal fabbro Però questa cosa mi ha fatto perdere un sacco di tempo E dal fabbro si possono fare cose utili con le armi E con le rune E gemme più che altro Non ho letto niente Però basta parole Andiamo Facciamo azione Buon uomo con la barba bella In che senso ai personaggi di questo gioco piace mangiare Mi sfugge questa domanda Bella domanda anche a che sarebbero le opzioni di dialogo Se poi le devi per forza usare tutte Non ne ho idea Questo è l'altro modo di arrivare all'interno della boss fight Si può entrare da qui Si può arrivare dalle spalle E vabbè a questo punto Visto che non stiamo toccando il salvataggio Torno sopra Bel salto Devi smettere di fare salti a caso E parlo al personaggio Non a me Perché certo non è colpa mia Sono tutti quanti cicciottosi personaggi Per questo chiedevi Beh sì E inverno Ci sono mostri In cosa vorresti trovare conforto Se non nel cibo E da qui Si scende Cerchiamo solamente di non farci fottere dai minion La cosa più semplice e utile da fare Sarebbe distruggere le uova da cui escono gli nemici Con il guanto Visto che sono un mago e dovrei farlo Il punto è che se voglio avere l'arma speciale Devo farli spuntare E devo farli uccidere dal boss Quindi Nasce il problema Qui c'era un teschio umano E con calma ci facciamo sto boss Parte di nuovo con l'attacco Delle cose Molto facile da schivare È da contrattaccare Questo no Abbiamo detto che non era una buona idea Contrattaccare Perché mi fa subito poi Questo E questo mi fa male Giusto per curiosità no Se metto il martello Quanto male gli faccio Fare un attacco che posso contrattaccare Questo va bene dai Siamo lì 167 Due colpi giusto per Alla fine non serve a niente Meglio starsene protetti qui E adesso vediamo Come va con questi nemici qui Adesso li sta creando E io gli ho fatto molto male Ok Attacco magico Uno sta arrivando da qui Io sono incastrato nel nulla Grazie È stato molto utile Sti tizi mi spingono Sono cattivi dentro Facciamo una cosa va Bevo No nemici state avanti a lui Non dietro L'arena con le tombe varie Uh Eccoli Sono morti Uno solo Appena mi ammazza anche l'altro Sono molto contento Ne sta creando altri due Credo Guarda Che cazzo Maledetti Ok sto perdendo Sì Non devo succedere Non devo succedere Non devo far succedere Questa cosa Ne ha creati tre La cosa migliore Che posso fare È non cercare di farmi uccidere Sto giocando male Ora sto giocando male Perché sono in pedal panico Non voglio Che si creino troppi di questi cosi Perché poi È un problema Quindi Tre li ho uccisi credo Due ne ha creati adesso E uno lo distruggo Così ce n'è solamente uno Lo faccio uccidere dal boss E poi non gliene faccio creare più No ne sta facendo altri Di già Non è vero Ho sbagliato Ma Non mi ha ucciso il nemico Maledetto Ora sì Perfetto Fantastico Possiamo riprendere a giocare come si deve Non ho più pozioni Quindi se mi voglio curare Devo per forza farlo con la magia adesso Facciamo che non mi curo più E basta Teniamo pronto il guanto Per quando crea i nemici Questa è l'attacco con Le tre salette magiche Attacco sordente Replico Non gli faccio niente con la magia Ah va tanto vale tenermela per Quando fa questo Lì ce n'è uno Boom Dov'è l'altro Dov'è l'altro Ah sta creando I portali Non l'avevo visto Sullo scudo Eh Ti spiacerebbe andare via Da questo mio riparo È morto Credo Attacco magico Mi sta benissimo La tensione in questo momento È reale Non manca molto a farlo morire Dipende dai attacchi che mi fa Un altro buon attacco in corso ed è morto Non adesso però Facciamo adesso dai Boom Facile A parte il momento di panico Quando c'erano tre nemici Che mi stavano tutti quanti addosso Più il boss Perché dovevo fargli riuscire per forza È stato facile E mannaggia a quella morte idiota In effetti è strano che sono Le due e un quarto Ma siamo ancora Così tanti Meglio così Non è una run Proprio normale 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 Però non è neanche una challenge Diciamo che È una cosa che io Non farei normalmente Ho avuto un po' più di esperienza Rispetto al normale 50% in più Una runa sigillata È il dito artigliato Abbiamo fatto tutto il suo bucio di culo Per averlo Diamogli un'occhiata Dito artigliato È un'ascia grande Pesa tanto quanto la nostra bacchetta Anzi anche di meno Scala molto in fede La mettiamo sempre come arma favorita Va Qui pioggiamola un momento Ve la faccio vedere Eccola qui Quest'arma Di speciale A Che se la metto a una mano E faccio l'attacco pesante L'attacco crea L'attacco che faceva il boss Che può colpire a distanza Consuma un po' della mia magia Ma può essere utile a qualcosa Se la metto a due mani Credo non lo faccia No L'attacco pesante era questo qui Eeeh Le asce grandi Sono estremamente lente Ma per il colpo singolo Questa è l'arma più forte Che ho adesso Ma penso che useremo Quasi sempre Questo qui No Non voglio leggere Non voglio leggere Non voglio leggere Non mi interesserà l'ora Grazie Volevo raccogliere Il teschio umano Sono d'accordo Se arriviamo a 100 like Ve le faccio vedere Le Palle di Atreus Vi visto che è lui Che sta offrendo Tanto vale Qui non credo ci sia niente Sono dando un'occhiata All'arena Per vedere se c'è qualcosa Da recuperare Ma sembrerebbe No Quasi tutto Qui ci dovrebbe essere Più caldo teschi Umani Già Da recuperare Questo è l'ingresso Delle catacombe Per ora Non ci voglio andare Eeeh Basta Credo che abbiamo fatto In quest'area Grazie per il salto random Andiamo a vedere Il portale Di quest'area Cosa c'è qui Usa Leggi la lapide Abbandona Grazie Troviamo l'uscita Boom Allora Qui per andare avanti C'è Caslo Dobbiamo farci un po' I casli suoi Ma Meglio direi Andare qui Quanta esperienza 10.000 punti esperienza Hai capito? E non me ne ero neanche accorto Sto navigando nell'esperienza Come se nulla fosse E' un punto magia Eeeh 25 abbiamo detto Uno in Resistenza E sono contento così Dopodiché Un punto magia In punizione Occhio per occhio Mi vendico degli attacchi Stordendo l'avversario Boom Lo proveremo Ma lo proveremo Nel prossimo episodio Scusate se questo è stato strano E lungo E complesso Ma è andata così Ci vediamo al prossimo Scusate se questo è stato strano Scusate se questo è stato strano Scusate se questo è stato strano Scusate se questo è stato strano